Quando la barca va in acqua, l'armatore vede il suo sogno che si realizza. Nella vita scatta l'amore a un certo punto. Il 50 è una barca che ha una dimensione che con l'equipaggio ha ridotto. Abbiamo fatto tante miglia in comfort, non abbiamo avuto nessun tipo di problema. La strumentazione è molto importante, sia sul racing ovviamente, sia sul cruising.